Carnevale ai tempi della pandemia a Torre del Greco, più maschere che mascherine. Quest'anno le festività del Martedì Grasso sono state stroncate ovviamente dall'emergenza sanitaria. Niente manifestazioni con bambini, niente corteio, spettacoli in strada. L'ordinanza numero 5, firmata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dettato regole rigide per evitare qualunque tipo di assembramento. Fra queste anche la chiusura di parchi e ville comunali, in genere luogo ideale per sfoggiare le maschere più originali. Tuttavia a Torre del Greco molti genitori non hanno rinunciato alla tradizione. Tanti bambini in strada, con travestimenti e coriandoli. Le limitazioni hanno avuto un effetto ambiguo sul divieto e assembramenti. Chiudere aree come la Villa Comunale, con i cancelli sbarrati, o Piazza Santa Croce, presidiata dalle Forze dell'Ordine, ha solo impedito alle persone di riunirsi in luoghi più ampi. Così, gran parte degli irriducibili mascherati si è riversata per le principali vie del centro, mescolandosi a persone in strada per servizi e compere mattutine. Una festa a metà, insomma, dove la voglia di tradizione si è scontrata con la sicurezza, un compromesso che ha tolto gogliardia, ma non il pericolo. Grazie.